La Juve che deve rispondere alla prima brutta partita dell'anno Marassi Ah no, Luigi Ferraz Marassi Si, bene Ah, si dice che è una sera un po' luminosa Un po' luminosa, un po' in estate Eh, si c'è un po' di tramonto La Juve è chiamata Dove rispondere alle accuse dopo la prima partita Un scarso impegno Anche se poi l'impegno ce l'ha stato Chi lo sa, magari nella realtà non sappiamo cosa ha fatto Dopo comunicheremo tutto Via Dai Sampdoria, falla girare Dobbiamo vedere giocare bene come il sessuolo Ottima Samp Dansgaard Inghietro però Ugello Ugello dello scambio con Gabbiadini Che prova il tiro Non va Guardate, c'è sceglia Il fatto che commentare è meglio commentare non giocando È più difficile Un po' che cos'è quella diviazione lì Pazza, va Un'ottima Sampdoria al momento Il momento si deve scaldare forse Perché non si scaldi mai Un po' di culo della Sampd Oh, ci vai? Guarda, è l'ora, mi pota Ah, guarda, che palle perdi Eh, sì, l'avevo visto È buona No, non c'è niente Bellissimo il taco Ah Ma che bella Niente, non ci arriva È buonissimo È bravo però quel ragazzo qua È Beresischi È Beresischi È Beresischi No, non è schifo quello che ho È una cosa clamorosa Meramente Che dovevi andare a cazzi? No, no, non te l'avrei avuto detto da solo Mamma mia Dove vai? Vai, vai, da vieni Vieni, capirlo In área Non fa che mi faremo Dei rischi Rischi da matti Di dove Spazzetti Vaga, è l'ora Cos'è? Ho spero che sia mio Vabbò Ma fa che fallo Delle Mi hai fatto un sandwich Ma dai, ma cos'è? Ma vabbè, erano in due Ma vabbè, un sandwich fighe ammazzato in due durissimi si può la panita si va bene si si attraverso la deviata parata non si posso si vedrà la deviata era fuori stronzo si regala il conga che bravo bel tocco bel tocchettino anche questo mi è piaciuto ma chi però questo non mi è piaciuto per niente questo veramente schifo eh si da lì da lì non puoi sorprendere Audero no? non puoi sorprendere da lì non puoi bravissimo questo è sicuro guarda che bello ecco l'arabitro guarda che bello ancora bravo 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 che bello ce li sto sanno se così si è guarda che bello guarda che bello ma voglio parlare delle radio croniche ma non è il momento adesso ce ne parlerà in un altro momento vabbè vabbè butta in mezzo il dal andrei ma protegge il pallone e viene attaccato è già fallo comunque è già fallo e non fai più prima me lo davi poi non me lo dai più perché fai schifo abito prima lascia andare perché il vantaggio prendi tutto il predator che schifo vedi beh resisti non sta in tuffo ancora quella ragazza qua ve l'ho detto che non sta in tuffo che bravo ragazza lo nasconde ancora 1 2 bellissimo vabbè dove vai questo 1 2 non 0 2 vabbè che schifo è questo qua va sventagliato no spizzi vai ciao vabbè 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 gli scingoli dai non fàche che roba è eh a vitro otissimo vabbè vabbè che fanno contro vabbè che fai schifo ma qua hai da strenghe che stranghe ma qui hai da strenghe dove hai da strenghe attenzione scappato fcc ל�Vo fa romanticà vabbè il complejo d'unico che è l'uccello l'ho giocato l'uccello l'ho giocato il reale a un uccello in cielo lasci andare ma cosa fai? me la vuoi buttare dentro? idiota incredibile me la vuoi buttare dentro bravissimo ma ma chi? lo porta anche fuori dal campo hai visto il porto in mezzo al cemento? che durissimo ah il mio grazie non mi avevo neanche reso conto allora scambio un po' rischioso della Sampdoria ma ci sta ci sta ma che schifo fai? no è bella bravo eh guarda culo guarda culo è culo tuo non mio io ti faccio un'abbellazione non mi interrompi con dei rimparli assurdi no questa è la fronzata è bellissimo è una salvata incredibile e questo è un numero bellissimo di Cadreva che spinge no devi farcela prenderla quella pallale di merda lì orca vacca è un bel contropiede bellissima parata a Uderò bravissimo veramente questo è un caso salva risultato bravissimi deliziateci schifo mi porta abito eh no eh no ci sariamo con Beresinski mi va che incredibile durissimo ma che figa eh lo sapevo è bella questa ottimo lob spisse bellissima ottimo uno scambio bellissimo che va venendo niente deviata appoggia la Uderò che si merita solo dai applausi del pubblico d'Oriano e va che sfiga Ken capisce tutto Ken non ne posso più non ne posso più non ne posso più fallo è chiuso il primo fallo vero della Sampdoria e purtroppo viene ammonito troppo ammonizione che potrebbe pesare speriamo di no che siamo già siamo solo al 45esimo andiamo a coprire questo buco lì davanti si mettono e non lo chiudono con gli strozi qua chiudi e chiudono benissimo e ripartono splendido cercano l'imbuccatato vacca dove l'hai buttata morri San Dario che cerca di chiudere il primo tempo bene se possibile niente lo schifo di passaggio brutto mi perdoni abitro no perdona perdoni mi perdoni vacca zio sono un laccio californiano si che succede il calcio non si dice non si dice vaffanculo devi cambiare caso è un errore imperdonabile da un metro la cazza chi che ha la bomba di quagliarella uno schifo si è rotto e finisce il primo tempo mestamente con questo tiro di quagliarella orrendo oserei dire orrendo perché mi rego un attimo un po' più svidelo va bene 59 possesso tiri un cacchio praticamente adesso però devo fare un cambio due munizioni sono troppi allora niente questo qua via vittor Tosby Tosby con Tosby Yoshida Ferrari Tosby no vittorio ah allora no vabbè senti è di stesso vabbè fighetto è lo stesso eh devo cambiare devo cambiare dai buon cazzo riuscito lo farà perché sta dove vuole ma no ma deve essere cambiato su l'ho selezionato per farlo cambiare dai fa andare via secondo tempo Juventus che cerca il vantaggio Sampdoria che cerca il possesso e lo trova si ferma alleggerisce ma che schifo fai ma chiude ancora Sampdoria eh che bravo stendolo eh ma che c***o vabbè vediamo stasera bene Sampdoria che cerca la fortuna ma vabbè una bella munizione per il figlio si va bene eh scusa il laccio californiano che laccio trattenuto ma no il laccio beh vabbè è la stessa colla la stessa colla che roba la stessa colla laccio dai matti dai 6 grammo dai su che super frittà bene ora proviamo lo schema no vai via rompiamo il c***o lo schema e me lo rompe il c***o mi rompe il c***o il mio schema mi senta chiuso pulitissimo e lo faccio che chifo lo stende partita maschia fai lo abito ottimo questo è ottimo dai chiudi ora siamo solo noi dai lancio bellissimo ci svegliamo la mattina questo ottimo Sampdoria oh matti dai Sampdoria dai Sampdoria e del c***o d'angolo per la Sampdoria dai Giro un po' troppo guarda, devi andare fuori 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 dove devi vomitare? ancora si andò, vieni dai, rimettono si va bene, che schema è? fa schifo quello schema lì quello può farlo che lavoro che lavoro lo mette in grado, guarda che durezza eeeh lì ha tirato su, figlia, quattro zolli sampdoria con la rabbia appoggia dietro malissimo per Audero e ci fa dentro un po' per dar tempo Audero ottimo l'ho visto fai fuori bene 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 dai dai l'ho raffalto e fallo ma niente non gli da niente vabbè vabbè appoggia su benissimo spizzi indietro cosa fai ci fa dentro consigli dai 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 qua dai dai qua dai dai qua ah no chi è? mi ricordo mi ricordo con quello di prima sono un disastro ottimo ho vinto no perché stava venendo un gol pazzetico se solo inquadrava la porta però l'idea è stata bella ma non rompere le scatole sampdoria che cerca il gol del secolo ovviamente sampdoria sorpresa che cosa è? che cosa è? no ma che lavoro ma buono non è buono non è buono nel negimo giallo rotto vabbè che lavoro fede è forse morto barella è un piccolo fallino dai sono fuori da dietro in due potere la figa chiudere qua nessuno passerà fuori di un nulla di un nulla ragazzi stavolta di un nulla non lo fa vedere c'è anche azzate grazie che rischio vabbè che rischio va capo dai abito però mi ha toccato la gamba non ho cercato di fare l'assist vabbè ma è una figa bene come fallo schifo come lo puoi dire pronti cos'è adesso? non lo so solo fuori gioco no 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 cazzo no dai ti faccio un culo così la prossima volta vieni qua ti guardo vabbè eh bellissimo da 30 km va bene dai marchiamo tranquilli ma cosa hai fatto da fare qua? è una cosa terribile si no oh oh pinza lì indietro bravissimo vai adesso è bella è bella va bene metti in difficoltà dai va bene va bene va bene chiudiamoli che va bene è nostra questa è nostra questa è una cosa che si no no il che si no il che si è davvero bravissimo ma che schifo hai fatto però va bene va bene va bene come puoi che viene piano earnerlo? come è possibile? infatti non lo so però puoi che viene se che non lo è vabbè pizzi lì ma se la fai dare in cielo una volta? si ma cos'è sto schifo di sfiga? no dai vai! va bene pizza la pizza ho detto va bene duri però fallo a mio favore si dice che mi hai toccato il sedere mentre passavo ma cosa? di petto forse scarpata palla aveva il piede si aveva una scarpata terribile sembra il fallo di tutti sui balottelli si va dentro certo che ti faccio dentro? pizza e va che schifo ma tu ti tolte io schifo è nostra non va che niente mi li chiude tutti anch'io però ENCO anch'io guarda che roba non sbaglia giustamente non sbaglia chi fa il furbino se la mette a posto ma io non ci credo fa il furbo guardate cosa furbina si emoziona non si può vedere non si può vedere non è orgogliosa grazie grazie il 76esimo non è orgogliosa ma come siete? eh bacca non gli ho fatto niente ero davanti dai la figlio che lavoro ti ho cantato anche il joy ti sei cantato in cielo ottimo cosa ho fatto? poti come un matto ma è fuori gioco non si sa come incredibile dai andate indietro cosa cosa difendere coi tempi e ci ma che fai? che roba è quella roba lì? che roba è quella roba lì? non va vale tutto vale tutto non va e fammi ridere tutto no! no! ci lo fai! io non ci credo oh dio il re della giornata culo 10 niente ecco incredibile ottimo non fa che vuoi lì? non sono ancora inguardabile ma cerca il culo? mi sto sudando il joystick anche ma che dove è? c'è uno? è pazzo ma che roba respira da champ il re di giornata è ugliero sono scagati ottimo ancora adesso e di chi era? è il nostro ma che l'ho buttato fuori questo è nostro tranquillo che cazzo l'ha dato? è troppo efficiente da ciù che salvat'è? ma che salvat'è? al 93esimo fa un selvone guardalo questo è un selvone che merita gli applausi incredibile ma che salvat'è? ma che salvat'è? ma che salvat'è? incredibile ma che salvat'è? ma che salvat'è? ma che salvat'è? secondo me sei parate della Sampdora contro una della Juventus e vediamo i voti con Audero 7 i miei attaccanti erano schifo finissimo i 5 non si sa perché poverino ho avuto 7 milioni in campo e finisce così un saluto a tutti